Momenti di tensione dietro le quinte della puntata di ieri video del grande fratello VIP 2017 questo ciò che emerge in queste ore dal racconto del pubblico che era presente in studio, il quale racconta che ad un certo punto ci sarebbe stata una reazione furiosa da parte di Jeremias Rodriguez, il quale non avrebbe gradito per niente alcune parole usate nei confronti di sua sorella Cecilia L. L'ultima eliminata dal programma proprio durante la puntata di ieri sera. Nel dettaglio chi ha seguito la puntata del GF VIP di ieri sa bene che Cecilia è stata attaccata in diretta da Simona Izzo, la quale anche questa volta ha voluto porre l'accento sul fatto che la Rodriguez abbia lasciato in diretta TV il suo fidanzato Francesco Monte. Una scelta che ha causato non pochi problemi alla Rodriguez e anche un bel po' di critiche, alcune anche molto feroci, sta di fatto che si mormora che dietro le quinte del GF VIP ci sarebbe stata una reazione clamorosa da parte di Jeremias che a quanto pare avrebbe perso le staffe contro Simona Izzo e il trattamento che ancora una volta ha riservato a sua sorella in diretta TV su Canale 5. Insomma una sorta di Lilite tra i due, che si sarebbe consumata con uno scambio di battute al vetriolo. Una prova del fatto che ieri sera dietro le quinte del GF VIP sarebbe avvenuto questo scontro verbale con Simona arriva anche dalla pubblicazione di una stories di Jeremias su Instagram dove dice che non ha mai portato maschere. Ecco allora che alla luce del retroscena bomba sul presunto litigio che sarebbe avvenuto dietro le quinte con la Izzo, questa stories di Jeremias appare come una sorta di frecciatina che ha voluto lanciare alla regista. La lettera shock di Simona Izzo con Gro Cecilia e Belen non si esclude, infatti, che Jeremias possa non aver gradito la lettera shock che Simona Izzo in questi giorni ha scritto video e pubblicato sulle pagine del settimanale di più, indirizzata a Cecilia e Belen. Nel dettaglio in questa lettera Simona diceva a Cecilia che non poteva cambiare fidanzati come si cambiano i canali alla tv e aggiungeva che in questo modo aveva dimostrato di essere una sirena come sua sorella Belen, e questo il vero motivo che ha fatto andare su tutte le furie Jeremias Rodriguez ieri sera GF VIP vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi del caso cliccate sul tasto segui in alto. Grande fratello VIP 2 Cecilia e Ignazio